Terza corsa premio Lattest Record, è un miglio per anziani a reclamare affidati ai gentlemen, sono in 9 al via Top Quark, Max Road, Santiago Carr, Rerase All In, Temple Team, Principe Mane, Odeon Deliree in prima fila, Tata Cross e Sofort RL in seconda fila avvia un po' sui generis dal quale emerge chiaramente Rerase All In nei confronti di Max Road, al cui esterno c'è Santiago Carr poi Top Quark con all'esterno Temple Team, è rimasto a largo, Santiago Carr va a chiedere strada a Rerase All In che sembra intenzionata a concedergliela sfila al termine della prima curva Santiago Carr, è il nuovo leader dopo 400 metri, quarto di avvio che se ne va in 30 secco ora punta deciso in avanti Temple Team che aggredisce Santiago Carr e tenta di sorprenderlo passa di forza Temple Team anche se ancora non è sceso alla corda, lo fa però prima della seconda curva è il nuovo leader Temple Team nei confronti di Santiago Carr, all'esterno in progressione Principe Mane poi Rerase All In, sposta a largo Max Road per prendere la scia di Principe Mane poi ci sono ancora Top Quark e Odeon Deliree in pariglia, a precedere Tata Cross e Sofort RL Insiste Principe Mane e va a prendere diretto contatto con Temple Team dopo un primo giro da 1.15.8 secondo in corda è sempre Santiago Carr con vicino Max Road siamo all'attacco della curva finale con Principe Mane che cerca di intensificare il pressing su Temple Team si affaccia in terza ruota Max Road lungo la corda Santiago Carr, all'argo prova a migliorare anche Odeon Deliree retta d'arrivo con Temple Team in vantaggio nei confronti di Max Road che ci prova sempre all'esterno di Principe Mane lungo la corda Santiago Carr a centropista Odeon Deliree in vantaggio Temple Team ma insiste all'argo Max Road che si fa minaccioso lungo la corda Santiago Carr non è più un fattore Principe Mane, nel finale Santiago Carr in corda che attacca il battistrada sul palo Temple Team forse si salva sia da Santiago Carr all'interno che da Max Road all'argo finale in calo per i protagonisti sul mio cronometro 2.28 media quindi di 1.16.8 si era andato più forte nel primo giro vedete l'attacco all'argo di Max Road in corda il varco millimetrico per Santiago Carr che impegna Temple Team si unisce a Max Road i tre sono testa a testa con Temple Team che in mezzo mantiene mezza testa di vantaggio Santiago Carr di poco precede Max Road dovrebbe essere 5.32 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle